Il nome di questa sessione è come possiamo reinventare le istituzioni e la cittadinanza. Parliamo di reti, a volte abbiamo fortuna come me, abbiamo la possibilità di lavorare con delle persone non solo che non si respirano ma guardano avanti. Un oratore mi ha detto che mi piace ascoltare Alberto perché riesco a capire quello che avverrà nei prossimi anni. I suggest you listen very carefully to Alberto Cottica. Allora ascoltate veramente Alberto Cottica e quello che vi dice perché sono sicura che apprenderete qualcosa. I love you too Antonella. Ti amo Antonella. Marco I think you took my remote. Hai preso il mio telecomando, l'hai preso tu, no eccolo qui. Networks are mathematical objects. They are used to represent relationships across any type of entity represented by nodes and the relationships themselves are represented by edges. They are very general, you can use networks to talk about just about anything. There's networks of genes, there's financial networks, there's food chain networks. Reti di alimenti, reti di geni, ma ci sono delle reti, le reti sociali. Ma la cosa importante per la politica è vedere questo. Questo è molto interessante. Le reti sociali rappresentano la società, l'economia e anche le politiche che noi possiamo adottare. Perché? Perché la politica ha a che fare con il cambiamento comportamentale e molti pattern comportamentale viattrono attraverso i link sociali. Cosa intendo? Per esempio, tre primi utenti dei modelli di rete sono stati gli epidemiologi, come l'epidemia, come l'AIDS. Possiamo modellizzare l'AIDS, come una social network, in cui nodes are people and the edges are represented by sexual contacts. E poi gli edge sono considerati i rapporti sessuali. Allora, se sappiamo che è il partner di chi, possiamo prevedere la diffusione di un'epidemia. In maniera ragionevole. Allora, gli epidemiologi hanno cercato di utilizzare lo stesso modello per prevedere anche stati non epidemiologici, come per esempio l'obesità. E' stato visto che questi modelli spiegano molto bene il pattern del sovrappeso. Se, per esempio, i tuoi amici sono sovrappesi, la probabilità di essere sovrappeso è maggiore. E se gli amici degli amici sono sovrappeso, la probabilità di essere sovrappeso è maggiore. E questo è vero anche se i tuoi amici degli amici sono sovrappeso. Perché non è che c'è un virus dell'obesità che si trasmette attraverso il contatto sociale. Ma è vero che questo è davvero generale, perché la stessa cosa succede per molti altri stati. Smoking, perdere il smoking, avere un alto rischio, essere lavorato, essere divorzati. Tutti questi stati sono spiegati molto bene per i modelli epidemiologici. E possiamo solo concludere, come le persone sono, che gli uomini sono costretti per la sensibilità a la pressione sociale e per l'imitazione, per il bene e il bene. Possiamo capire perché i politici dovrebbero fare attenzione a le reti e con un cambiamenti comportamentali. E tatti lo sono. Abbiamo visto tantissimo network thinking nella settore politico. Questi sono alcuni esempi che avete visto già questa immagine. Questo è un conglomerato, in questo caso Goldman Sachs, è una grande rete in cui i nodi sono i compagni e i compagni sono i compagni. Questo è un modo molto elegante di rappresentare una struttura molto complicata. Questo non è un progetto di governo, come si conosce. Questo è stato costretto da Open Data maestro Chris Taggart. Ma il governo è stato costretto da Open Data maestro. Riccardo Hausmann e Cesare Hidalgo ha proposto un prodotto di prodotto. Anzi, proposto una rete che si chiama Open Space per i prodotti e prevede la crescita. Ma ci può dire in quale paese in cui verranno sviluppate alcune aziende che avranno successo. I governi stanno utilizzando questi modelli, soprattutto in America Latina e Venezuela l'ha adottato per la prima volta. Però possiamo utilizzare elementi per vedere i contratti. Per esempio qua abbiamo una rete per le parti del settore dell'istruzione e della sanità. Vediamo che se c'è un cluster è in mezzo da vedere che cosa sta accadendo. È come se ci fosse un preallarme. Questo è un preallarme. Questi sono i dati di finanziamento dei progetti di ricerca in Italia. Potete vedere nella rete. Abbiamo la posizione centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche. E' molto importante se vogliamo avere un finanziamento. E questa è una regolarità. E' possibile visualizzare dati in questo modo. Io sono particolarmente interessata a studiare i reti di partecipazione di EdgeRiders. Abbiamo partecipato a un'etnografia all'innovazione in Armenia, Egypt e Georgia. E abbiamo deciso di gestire questa conversazione sul stesso spazio online utilizzato da gli Adriders per parlare anche di questioni correlate. Questa è una rete di conversazioni. I nodi rappresentano persone. I rapporti sono i commenti. E la conversione UNDP è in arancione. I dati ci dicono che questa conversazione ha un ottimo equilibrio tra la diversità e la coesione. È incorporata in una conversazione più ampia e le persone da questa conversazione stanno partecipando. e aggiungono diversità. Ma all'interno di questo tempo non ha perduto la coesione strutturale. Vi potete vedere che abbiamo tutta una serie di cluster. Io lavoro con un'organizzazione umano e siamo attendo appunto un software che si chiama EdgeSense che riesce in tempo reale delle reti di varie conversazioni extra. Abbiamo 10.000 persone che lavorano per il settore pubblico e sono interessate a innovare. Abbiamo una comunità di circa 500 cittadini con 500 cittadini che stanno cercando di creare Matera come Capitale Europea della Cultura. Comunque vedete che ci sono vari partner diversi. La conversazione di Matera è una rete densa in cui tutti sono collegati allo centro-giant component. Invece innovatori PR è un po' diversa. ci sono diverse isole di persone che parlano senza però partecipare nella conversazione generale. Inoltre ci sono anche alcuni, per esempio i puntini neri che non fanno commenti e ci sono tante persone che sono collegate solo a un individuo. per esempio la struttura gialla. I moderatori di queste comunità utilizzano il software per avere un'idea di stato di salute della conversazione e usano Google Analytics non tanto per l'uso delle pagine ma per le relazioni. Questo è ancora più interessante. negli esercizi di partecipazione possiamo mettere i dati semantici. Per esempio le persone convinciano a parlare, però sono attratti da un interesse comune e in qualche modo si crea un think tank. e attraverso le procedure algoritmo li possiamo rilevarli, possiamo fare tante cose, possiamo rivolgerci a loro, possiamo assumerli. Questo è il pattern. Le reti stanno crescendo dappertutto anche nel settore politico. Questo è recente e questo è avvenuto solo due o tre anni fa. La domanda è perché? Che cosa c'è da guadagnarci? Perché i politici pensano di guadagnarci e in qualche modo dove li porta questo orientamento? Allora loro vogliono guadagnarci in termini di impatto. Allora se noi vogliamo combattere l'AIDS e se abbiamo questo modello di AIDS bisogna avere un cambiamento comportamentale. Bisogna cambiare il comportamento di tutti. Cioè dobbiamo lanciare una grande campagna di comunicazione e dobbiamo rivolgerci a tutti. Però la maggior parte di coloro a cui ci rivolgiamo non si comportano in maniera pericolosa. Però se abbiamo un modello di rete possiamo capire che generalmente abbiamo un piccolo numero di persone che hanno tanti partner sessuali. E' possibile andare a individuare queste persone per fare degli interventi. Miglioranti l'impatto sarà migliore con delle spese minori. Questo è un esempio generale ovviamente. O comunque abbiamo attraverso i collegamenti sociali tanti pattern dei comportamenti. Questo è un modello generale. E io voglio anche sottolineare che in questi modelli la forma della rete è assolutamente cruciale. Io ho qua due cose importanti. Abbiamo la stessa epidemia. L'unica differenza è che in un'interazione a sinistra possiamo vedere che tutte le interazioni sono locali. Vediamo che c'è un 1% di interazione che è sulla distanza. Questa interazione a sinistra è che magari noi siamo in contatto con un pacco, con un pacco, con un pacco, con un pacco, con un pacco. Ma che ha delle idee politiche diverse. Magari abbiamo un per cento dei collegamenti che sono a lunga distanza. E però questa è un'enorme differenza sul pattern della diffusione dell'epidemia. Nel 2009 molte banche centrali hanno messo appunto delle politiche di d'austerità sulla base di evidenze. C'è stato un lavoro fatto da Kenneth Rohr e Karl Reiner che hanno sostenuto che gli stati sovrani, una volta che hanno un rapporto del debito, sono molto vicini al default, però è sempre che questo limite è un errore. E questa è solo una storia, però nella realtà delle big data è sempre più difficile prendere delle decisioni basate sulle evidenze. Perché abbiamo più evidenze, però le evidenze sono più difficili da interpretare. I dati sono grandi, sono troppo grandi per essere conosciuti. Allora, in effetti ci sono tanti strati di aggregazione e filtrazione e di processione. E per il tempo che abbiamo fatto il risultato, il senior politici non riescono assolutamente a capire quali sono le ipotesi. E ovviamente questi politici sono un'opposizione degli antichi re che vogliono portare l'oracolo e dicono vogliamo fare la guerra a Sparta. Allora le persone vedono i dati, in questo caso l'interiore del piccione, però in effetti non c'è alcun modo di sapere come effettivamente prendono le decisioni e neanche il re lo sa. Allora fanno delle decisioni ostensibili sulla base di evidenze, però nessuno sa che cosa significa. D'altra parte i modelli di resi possono portarvi lontano solo con modelli semplici e intuitivi che tutti possono capire. E ovviamente l'Italia dei sociali sono più misurabili. Questo è un concetto che l'abbiamo supportato perché non possiamo utilizzare dei dati per ricostruire i dati. Se proprio che fanno Facebook e Google lo possiamo fare anche noi però su scala più bassa chiaramente. Inoltre con i modelli di resi è abbastanza facile capire come le regole semplici è possibile far emergere strutture complesse. Anche da nodi identici possiamo avere delle strutture molto ineguali. Allora questo vi dice due cose, entrambe sono buone. Allora prima di tutto non lo sottostimate alla capacità di sistemi di organizzarsi. La dinamica di sistemi può fare delle cose abbastanza meravigliose, però in secondo luogo vi insegna la compassione. I modelli sono evidenti, alcuni saranno dei super star, altri saranno periferici. Non c'è nulla di modello di che nessuno parla del talento. Questo non è un merito, è semplicemente la dinamica dei sistemi. Questo è il modo in cui guardare il mondo se uno è un politico. Però pensare ai termini di reti non richiede grandi cambiamenti culturali. Perché questi cambiamenti che vengono prodotti dalle reti? Perché i politici è una volta che dedono le reti non riescono più a dimenticarle. Quando guardiamo la società in termini di collettività vediamo che le persone scambiano sempre le informazioni e si adattano gli altri. Ovvero iniziano a vedere le attenzioni sociali. Come degli inciami che sono molto importanti nel 2012. Un gruppo di hacker in Polonia ha iniziato un movimento. Che ha praticamente terminato un trattato molto complesso. Che hanno stato difficile da capire. Per esempio, persone che hanno fatto battaglie epiche contro la visa contro i governi. Possiamo prendere questa relazione il 16 giugno del 2009. Perché praticamente... E una protesta in Iran. Comunque ci sono dei pattern. Ci sono delle persone che cominciano a combattere per una causa comune. E praticamente creano come dei gruppi e poi si sciolgono. Ora, pensare e darvi direte la chiave per capire questi sciami. I politici che capiscono gli sciami possono usarli in questi gruppi di sciami. Per esempio, questi so vengono da Almutamidia. Questo 2011, l'apparato di sicurezza stava a Tarrir Square. E loro erano qui e praticamente stanno creando 4 nuove rampe per entrare sul raccordo anulare del Cairo. Che è considerata un'infrastruttura chiave. E siamo soluzioni a costruirla. Perché l'apparato di sicurezza stava tutto lì nella pazza Tarrir. Le hanno costruite secondo le specifiche. Sono degli ingegneri tecnici che hanno speso il 25% di quello che il governo ha speso per fare il stesso lavoro. Quando erano finiti, hanno chiamato il capo della polizia per inaugurare le rampe. Il capo della polizia è andato e rende tutto legale. In qualche modo ha sanzionato il fatto che ha accettato queste rampe. E la città è come una wiki. Non c'è accesso al Almutamidia. E secondo loro è stato un errore. E questo non è stato fatto da un'azienda, da un ONG. E' stato uno sciame senza struttura che ha costruito un'infrastruttura fisica. In Edge Riders abbiamo raccolto tante storie e le persone che fanno delle cose che noi consideriamo il domenio dello Stato. Cioè continuano a lavorare per il mare pubblico. Per esempio, abbiamo avuto gli hacker che hanno abbandonato in California cercando di re-engineerizzare le foto della prima orbita della Luna. E poi abbiamo avuto i pensionati in Montenegro. Allora, per quanto riguarda i politici, secondo me si parlerà sempre più di monitoraggio e di sperimentazione. Il monitoraggio di data delle informazioni sulla base delle reti e poi la sperimentazione apre nuovi percorsi che possono essere attraverso dai governi oppure da altri attori. Abbiamo il Global Pulse delle Nazioni Unite per capire che cosa funziona e che cosa non funziona nel mondo anglosassone come sperimentazione. E vi lascio con una citazione che ho sentito dire a una conferenza Noi non facciamo nulla tranne esperimenti e prototipi e poi li chiudiamo quando noi smettiamo di imparare. Beh, io mi aspettavo di peggio. Che cosa pensate voi per quanto riguarda la politica della rete?